Fabiana Aceto, centrale della nuova Pallavolo Campobasso, finalmente domani c'è uno scontro diretto. Per voi arriva il Casoli, che gara ti aspetti? La partita la stiamo preparando in modo preciso. Domani sarà una squadra abbastanza abbordabile, sono di bassa classifica. Bisogna vedere ogni partita una sua storia, bisogna vedere come reagiranno le ragazze della nostra squadra e il Casoli che verrà in trasferta da noi. State comunque crescendo gara dopo gara, sicuramente non possiamo dare uno sguardo all'ultima di campionato, visto che avete fatto visita alla capolista del girone, quindi quella non fa testo. Però nell'ultima di che avete giocato in casa invece avete dimostrato un ottimo affiatamento di squadra. Sì, le ragazze stanno crescendo, ci stiamo allenando parecchio. È normale che un campionato nazionale come quello che stiamo affrontando ha un approccio psicologico e fisico diverso dai campionati regionali nei quali abbiamo militato gli altri anni. Bisogna superare ogni tanto quei piccoli scogli che frenano l'emozione e salire sempre di più nelle gare. Infatti per quanto riguarda l'affiatamento di squadra, come hai detto, quindi è migliorato. Dovete solamente riuscire a mantenere il sangue freddo, riuscendo a chiudere per l'appunto la gara, cosa che non è accaduta due settimane fa? Sì, diciamo che manca poco, perché ci siamo scontrate con squadre di gran lunga superiori a noi, sia sul piano tattico che sul piano fisico. Molte squadre sono squadre di B1 quasi. Noi però abbiamo tenuto il campo, cosa che ci ha reso veramente orgogliose e speriamo di migliorare in ogni partita sempre di più. Secondo me ci sono buone possibilità. Come stanno rispondendo le più giovani a questo campionato? Le più giovani sono emozionatissime. Per loro l'impegno è duplicato perché hanno la scuola, lo studio, gli impegni, gli allenamenti sono tanti, ci alleniamo quattro giorni a settimana per due ore, più le trasferte, la partita, quindi comunque è abbastanza impegnativo. Stanno rispondendo benissimo perché anche se con molta fatica sono sempre presenti tutte, noi gli diamo una mano, noi siamo già abituate alla fatica fisica.